La celebre cantante e showgirl Sabrina Salerno si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, la battaglia contro un tumore al seno. Dopo la diagnosi, l'intervento chirurgico e la terapia post-operatoria, Salerno ha deciso di condividere apertamente la sua storia per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione. Durante una mammografia di routine a luglio, Sabrina Salerno ha scoperto un nodulo al seno che ha portato alla diagnosi di un tumore. L'esito positivo della biopsia ha reso necessario un intervento di quadrantectomia per rimuovere il tumore, mantenendo intatta la mammella. Nonostante la paura, Salerno si è dimostrata determinata a riprendere in mano la sua vita e a mantenere un atteggiamento positivo. Con il sostegno del marito Enrico Monti e del figlio Luca Maria, Salerno ha affrontato con coraggio la malattia. Dopo il ritorno sul palco per il tour in Francia, la cantante si prepara ad iniziare la radioterapia il 9 dicembre. Consapevole dei rischi di una possibile recidiva, Salerno affronta la situazione con filosofia e umorismo. Sabrina Salerno ha deciso di parlare pubblicamente della sua malattia per sensibilizzare sul tema della prevenzione. Nonostante le critiche ricevute, Salerno ha ribadito l'importanza di diffondere un messaggio positivo. La malattia ha portato la cantante a riflettere su temi profondi come la fede e la mortalità, ma nonostante tutto Salerno si mostra determinata a guardare avanti. Il tumore al seno è stata una dura prova per Sabrina Salerno, ma la cantante ha dimostrato una forza interiore e una maturità che ispirano chiunque si trovi ad affrontare momenti di difficoltà. Con la sua storia, Sabrina Salerno ci ricorda l'importanza di ascoltare il nostro corpo e di prendere il nostro corpo.